A Campobasso il questore Vito Montaruglia ha illustrato in una conferenza stampa i dati relativi al territorio e alle attività di controllo. La prima commissione consigliare ha espresso parere favorevole alla proposta di legge che andrà a modificare lo statuto regionale. Nessun limite di mandato per i candidati a sindaco nei comuni con meno di 5.000 abitanti lo stabilisce un nuovo decreto legge. Intesa Prefettura Ance per formare lavoratoli ed il protocollo punta all'inclusione sociale all'inserimento lavorativo di richiedenti asilo e stranieri vulnerabili. E ben trovati con un nuovo appuntamento. Con l'informazione di TLT in apertura la pagina della cronaca sono ancora in corso le indagini per fare chiarezza sulla vicenda dell'uomo di 79 anni che ha perso la vita precipitando dalla finestra del secondo piano di una casa di riposo a Monte Roduni. Da accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di una disgrazia. Il questore di Campobasso Vito Montaruli ha illustrato stamane i risultati ottenuti dalla Polizia di Stato nel contrasto ai reati di natura predatoria nel capoluogo e provincia. Vediamo. Dopo qualche giorno dalla visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Campobasso per partecipare alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il questore di Campobasso Vito Montaruli ha ritenuto dover convocare la stampa per fornire loro qualche dato e considerazione riguardo l'attività della Polizia di Stato. I potenziamenti dei controlli hanno portato nei mesi di dicembre e gennaio a ridurre drasticamente i numeri dei furti negli appartamenti, numeri in netta crescita nei mesi precedenti, dai 23 furti di novembre al dimezzamento di dicembre ad un solo furto nei primi 22 giorni di gennaio. Si è verificato nell'autunno, come tutti sappiamo, un picco di questo fenomeno, di questi furti e questo picco è stato immediatamente contrastato con l'attività del personale della Questura, nonché con servizi di controllo straordinario del territorio, sempre tutto in sinergia con l'arma di carabinia, il che ha consentito di abbattere quasi immediatamente questo fenomeno e di rendere più sicura la città di Campobasso per i suoi cittadini. A livello provinciale possiamo dare atto che ha aumentato notevolmente il controllo straordinario del territorio, abbiamo avuto circa un aumento del 10% dei controlli sulle persone nel territorio provinciale, circa il 20% della popolazione provinciale è stato sottoposto a controllo da parte del personale della Polizia di Stato, soprattutto Questura e commissariato. Vorrei anche dire che nonostante questa attività è sempre importante fondamentare la collaborazione da parte dei cittadini, i cittadini devono collaborare, devono segnalare eventuali situazioni sospette che possano avvenire sotto i loro occhi e la nostra attività proseguirà e devono essere anche attuate dai cittadini delle cautele minime perché dobbiamo essere collaborati anche da questo punto di vista e quindi con tutte quelle misure basilari di sicurezza che possono contribuire a prevenire questo tipo di rischio. Per i ladri di autovetture abbiamo delle evidenze ben precise che possiamo rilevare da alcuni episodi che sono successi sia sul campo basso con l'inseguimento che si è concluso in provincia di Foggia che a Termoli e dove i lati di autovetture con ogni probabilità sono riconducibili a gruppi di estrazione foggiana. Con ogni probabilità sono anche gruppi non autoctoni, non originari della provincia di Campobasso, i gruppi che commettono furti in abitazione. Supponiamo che ci possa essere anche un interessamento di cosiddette batterie provenienti dalla campagna. A Termoli i carabinieri forestali sono intervenuti in seguito all'abbandono di rifiuti speciali da parte di due ditte della zona che si occupavano di lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico e della realizzazione della fibra ottica. Riversati nell'ambiente dalle due imprese scarti di demolizioni edili, terre e rocce da scavo, imballaggi e rifiuti ingombranti in due distinte ari di campagna. Entrambi i titolari sono stati denunciati per abbandono di rifiuti speciali. E la prima commissione consigliare della regione molise, parliamo adesso di politica che si occupa dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa, ha approvato e trasmesso al Consiglio una proposta di legge che intende modificare lo statuto. Vediamo. La vicenda delle nuove nomine dei consiglieri regionali delegati che dovrebbero affiancare il Presidente della Giunta Francesco Roberti e i sottosegretari che diventerebbero due deve passare attraverso una modifica dello statuto, cosa già avviata con la proposta di legge specifica passata già in prima commissione e trasmessa al Consiglio per il suo esame e la successiva eventuale approvazione. La legge di modifica statutaria è stata redatta e sottoscritta dai consiglieri Roberto Di Pardo e Stefania Passarelli, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della prima commissione consigliare permanente. Il Presidente della Regione c'è una piccola modifica e quando c'è la vacazio tra una legislatura e l'altra quindi il Presidente assorbe anche le funzioni della Giunta. Per quanto riguarda il secondo sottosegretario è facoltà del Presidente nominarlo o non nominarlo, invece per quanto riguarda i consiglieri delegati in questo momento che ci sono meno funzionari alla Regione e quindi c'è una carenza di operatività il Presidente insieme ai firmatari che siamo io e il consigliere Di Pardo abbiamo sottoscritto questa legge per dare queste deleghe ai consiglieri che diciamo sono un lavoro fattivo di collaborazione e di intenti con il Presidente per portare avanti le proposte di legge e per aiutare tutto ciò che bisogna fare in questa Regione molese. Oggi nuova riunione a Campobasso della seconda commissione regionale permanente presieduta da Armandino Degidio due gli argomenti di discussione, l'adozione piano forestale regionale dopo l'esito positivo della procedura di valutazione ambientale e il complemento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027. E non ci saranno più limiti di mandato per i sindaci che intendono candidarsi nei comuni al di sotto dei 5.000 residenti per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani un risultato dal sapore della vittoria. Vediamo. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha concluso positivamente in Parlamento la battaglia sui mandati elettorali nei piccoli paesi al di sotto i 5.000 abitanti. Per gli eletti sulla poltrona di sindaco non ci sarà più alcun vincolo. guardando ad una realtà ridotta come Molise, una vittoria politica dalla capitale. La novità principale in questi giorni è quella dell'abolizione del limite dei mandati per i sindaci per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Mentre prima avevamo un limite di tre mandati consecutivi, quindi un sindaco eletto tre volte non poteva immediatamente essere ricandidabile, adesso questo limite per i comuni sotto 5.000 abitanti non c'è più. Una grande lotta fatta da Lanci Molise perché il Molise è per il 90% composto da comuni sotto i 3.000 e i 5.000 abitanti, quindi molto spesso non si trovano persone disposte a candidarsi proprio perché è difficile, ormai di fare il sindaco è diventato molto difficile, ma soprattutto anche il problema delle liste civette, del quorum in prima istanza del 50%, quindi ognuno si creava la lista d'appoggio. Tutto questo adesso non c'è più e quindi un sindaco bravo, un sindaco che fa bene ed è stimato dalla propria comunità può essere rieletto più volte, non c'è più il limite del mandato. Invece per i comuni sopra i 5.000 abitanti il limite è quello del terzo mandato. Ha brogato anche il reato di abuso d'ufficio, una spada di Damocle, proprio per i primi cittadini, ma sempre nel rispetto della legge. Il reato di abuso d'ufficio, quindi l'articolo 323 del codice penale, è stato in Senato, è stato votato l'abrogazione del reato. Adesso andrà la Camera, quindi si spera, ma sicuramente sarà di plano la cosa. È una cosa molto importante perché i sindaci avevano paura di lavorare, nel senso il cosiddetto paura della firma. Un sindaco veniva per niente e andava a finire sotto processo per il 323, oppure se non faceva una cosa andava sotto processo per il reato di omissione di ufficio. Nel momento in cui si dà una discrezionalità ad un sindaco, nello stesso tempo si deve dare a questo sindaco la possibilità di sceglia nei limiti del legale. Quindi non deve essere succube della propria discrezionalità, qualora giustificata e qualora rispetti la legge. Così la Giunta e così il Consiglio Comunale. L'assessorato alle politiche agricole della Regione Molise pubblica un bando per finanziare il settore dell'apicoltura. La richiesta di finanziamenti da parte degli imprenditori agricoli riguarderà gli interventi di miglioramento della produzione e della sostenibilità della propria attività, come l'acquisto di attrezzature più moderne, il ripopolamento delle arnie, la lotta ai parassiti, e i corsi di formazione e aggiornamento. Il bando resterà aperto fino al 28 febbraio 2024. E nell'ambito del tema della sostenibilità e contaminazioni nel mondo della ricerca, l'Università degli Studi della Molise propone le eccellenze dei suoi dottorandi attraverso i progetti di ricerca che sono alla base dei loro attuali impegni. L'Università degli Studi del Molise ha voluto di nuovo presentare, come in una bella vetrina, le sue eccellenze, le dottorande e i dottoranti che rappresentano con le loro ricerche l'alta formazione scientifica, innovativa e internazionale, i loro impegni attuali indirizzati nell'ambito dell'argomento scelto quest'anno che è sostenibilità e contaminazioni nel mondo della ricerca. Ascoltiamo il professor Giuseppe Maiorano, coordinatore del dottorato in tecnologie e biotecnologie agrarie. È un momento in effetti importante perché sono i nostri giovani ricercatori, ormai i dottorandi sono i nostri giovani ricercatori, sono le porte praticamente, sono coloro i quali sono i viatici che ovviamente si aprono al mondo. Cito un esempio importante, un nostro dottorando ha vinto straniero, perché dobbiamo anche precisare che noi abbiamo anche dottorandi stranieri, uno di questi che si è addottorato esattamente qualche mese fa ha vinto un posto di ricercatore presso un'università cinese. Quindi voglio dire siamo contenti, ho citato un caso ma ce ne sono ovviamente tanti altri. In effetti è così, loro sono il nostro futuro, sono coloro i quali ovviamente devono creare tutti i presupposti per fare in modo che l'attività di ricerca possa essere un'attività di ricerca di carattere mondiale. I nostri dottorandi ovviamente sono pronti per il percorso di formazione che fanno, sono maturi una volta che terminano il loro percorso ovviamente di fare esperienze lavorative anche in altre parti del mondo. Con il professor Maiorano abbiamo anche parlato dei ricercatori che spesso devono lasciare il loro paese per poter continuare gli importanti studi. Io ritengo che le eccellenze rimangono anche qui da noi, certamente non tutti possono rimanere perché c'è difficoltà di reperire fondi ovviamente per nuovi posti anche all'interno delle strutture non solo universitarie ma anche di ricerca, però vorrei fare una piccola precisazione, certamente vanno via, sì molti vanno via, però chi rimane qua non è semplice rimanere qua perché si deve sgomitare per poter ovviamente essere vincitori di progetti, per poter lavorare in maniera serena. Quindi certamente come in tutte le cose c'è il rovescio della medaglia. Loro all'estero hanno opportunità, i nostri qui hanno altre opportunità, ma non è facile portare avanti le nostre ricerche anche qui in Italia. Speriamo che nel futuro tutto questo pian piano possa cambiare in modo tale che i nostri ricercatori rimangono qui in Italia e ovviamente anche con collaborazioni all'estero. Un'ultima precisazione, sì ovviamente molti ricercatori vanno all'estero, però non dimentichiamo che il cordone umbilicale non lo staccano perché le collaborazioni ovviamente continuano a esserci anche con le nostre università. I rappresentanti regionali della Col di Retti Claudio Papa e Agnello Ascolese in una lettera aperta alla Presidente della Giunta molisana Francesco Roberti affrontano la questione dell'incremento degli impianti fotovoltaici a terra importanti per produrre energia, ma che richiedono l'occupazione di molto suolo agricolo. Gli imprenditori agricoli spiegano, ricevono offerte di affitto e acquisto dei propri terreni da rappresentanti di società che operano nel campo della produzione di energie rinnovabili e sono invitati ad abbandonare la produzione di cibo installando impianti fotovoltaici a terra. All'attenzione della Presidente esposte le problematiche e le soluzioni alternative alla sistemazione a terra dei pannelli, preferendo la loro collocazione sui tetti di case e strutture. Nel prossimo futuro le imprese edili della provincia di Sernia potranno contare sulla forza lavoro proveniente da migranti stranieri opportunamente preparati, accordo raggiunto tra tutte le parti in causa. L'Associazione dei Costruttori Molisani, la Scuola Edile, il Centro di Istruzione per Adulti e le Forze Sindacali hanno firmato un accordo di collaborazione ad Isernia al fine di realizzare occasioni di lavoro e quindi di inserimento sociale per i migranti presenti nei centri di accoglienza sul territorio dell'Alto Molise. L'obiettivo dell'intesa è favorire l'inserimento occupazionale di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale attraverso percorsi formativi e opportunità nel campo dell'edilizia. Una importante fase di ripresa per gli stranieri in difficoltà arrivati sul suolo italiano per motivi economici ma occasione anche per le imprese edilizie sul territorio provinciale messo a dura prova dalla congiuntura economica e che hanno bisogno di forza lavoro. Le parole del prefetto Franca Tancredi alla firma dell'accordo Il comparto delle costruzioni ha necessità urgente di essere rinvigorito in regione e tornare ad essere trainante per le sorti dell'economia locale. I migranti con particolare talento per il comparto possono attraverso percorsi professionalizzanti in materia di sicurezza sul lavoro e negli altri ambiti soddisfare le esigenze attuali degli imprenditori della provincia di Isernia al fine di risalire la china e se possibile tornare a crescere. In visita all'istituto di istruzione Brigida di Termoli il senatore Costanzo della Porta e l'assessore comunale all'istruzione Silvana Cicciola per parlare agli alunni del valore della Costituzione italiana. L'incontro formativo rivolto alle classi quinte della primaria è stato l'evento conclusivo di un percorso intrapreso con gli insegnanti. E all'ospedale Veneziale di Isernia l'incontro rivolto al personale medico-sanitario sul bilancio 2023 per il nuovo anno prevista una riorganizzazione della struttura per potenziare i servizi. Vediamo. Dopo l'incontro indetto dalla direzione dell'azienda sanitaria regionale molisana all'ospedale Cardarelli di Campobasso per fare il punto sulla situazione della struttura ospedaliera anche al Veneziale di Isernia una riunione rivolta al personale medico ed infermieristico è servita a parlare delle criticità dell'ospedale ma anche delle sue potenzialità. All'attenzione dei presenti i dati del bilancio del 2023 tra ricoveri, degenze e posti letto disponibili che sono attualmente 125 e che nel corso dell'anno da poco concluso hanno ospitato 2.973 ricoveri. Verso un miglioramento dei servizi sanitari fondamentale si rivela la collaborazione tra l'ASE e le strutture del territorio come quella dell'ospedale Veneziale di Isernia. Siamo in fase di riorganizzazione considerando sia le difficoltà economiche sussistenti che la carenza di personale commenta la direttrice amministrativa dell'ASREM Maria Grazia Galante ma crediamo nella squadra e con la squadra vogliamo ricostruire la sanità molisana. E a Campobasso negli spazi dell'Università degli Studi della Molise domani pomeriggio alle 18 l'inaugurazione della mostra cenere dell'artista molisana Luciana Picchiello organizzata in occasione della giornata della memoria l'allestimento a cura dei docenti Unimol Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio. Un campo di concentramento fu realizzato ad Agnone dai nazi fascisti per internare Rom, Sinti e nemici politici del regime. Sabato 27 la Fider Calcio Molisana promossa un dibattito storico nelle sale del municipio per noi il contributo di Vittorio Labanca. Nella giornata della memoria 2024 che si celebra il 27 gennaio prossimo si avrà un momento di riflessione per non dimenticare. Evento questo targato Lega Nazionale di Lettanti per mantenere sempre viva la memoria nei giovani contro l'antisemitismo e la discriminazione raziale. In particolare il Comitato regionale molise della Lega Nazionale di Lettanti ha deciso di promuovere una giornata di riflessione dell'Olocausto e della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento sabato 27 gennaio alle 10.30 presso la sala consigliare del comune di Agnone. Proprio ad Agnone lo Stato italiano istitui il 14 luglio del 40 un campo di concentramento. Attenzione di concentramento e non di sterminio come quelli tedeschi. In cui l'Agnonese, che col divenire dei decenni oggi è casa di riposo San Bernardino, furono internati dal 1948 al 1943 ben 148 rom e sciti. In ricordo una targa installata il 26 gennaio 2013 dall'allora sindaco Gelsomino De Vita. 27 gennaio 1945 è data passata alla storia grazie alle truppe dell'Armata Rossa che in quel pomeriggio liberarono dal campo di concentramento di Auschwitz circa 7.000 prigionieri. Il 27 gennaio, è il giorno della memoria, è compito di ognuno di noi ricordare per non dimenticare perché il ricordo assume un ruolo fondamentale in una società in cui la deriva negazionista è ancora una ferita aperta e le faide new circolano liberamente e pericolosamente. Adesso le previsioni meteorologiche prima di passare alla pagina sportiva. Metal Impianti Carpenterie metalliche civili e industriali scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio Metal Impianti Boiano Info 0874 77 34 54 Oleificio cooperativo di Venafro olive, olio e tradizioni sulla strada statale 85 Venafrana Viale San Nicandro 41 a Venafro Alta pressione sulla penisola italiana Bel tempo oggi sul Molise con temperature comprese tra la minima di 4 gradi sui Serni e la massima di 14 a Campobasso mentre per l'Abruzzo dai 2 gradi di Teramo ai 15 di Chieti ventilazione debole di direzione variabile poco mosso il medio adriatico cielo stellato dalla sera domani si rafforzerà l'anticiclone africano sereno al massimo poco nuvoloso sulle due regioni valori atmosferici in ulteriore lieve rialzo correnti meridionali Serie D nella sfida interna contro l'Atletico Ascoli è arrivato anche l'esordio di Niccolò Romero buona la prova del centro avanti rosso-blu ascoltiamo le sue parole alla termine della gara contro l'Atletico Ascoli l'esordio in maglia rosso-blu per Niccolò Romero buona la prova della punta ex lucchese che in più occasioni nel corso della gara ha sfiorato anche il gol nella zona mista queste sono state le parole della centravanti io personalmente non mi aspettavo potessero reagire così in fretta loro detto questo sicuramente sono una squadra che ha una precisissima identità di gioco e grande frizzantezza questo spero che possa giocare così anche contro tutte le altre perché potrebbe veramente mettere sicuramente metterla in difficoltà tutte Romero parla della pressione da capolista quei momenti da gestire per abituarsi a stare nella parte alta della classifica tutto passa per la concretizzazione delle occasioni tema più volte toccato anche dall'allenatore Rosario Pergolizzi nella nostra posizione delle volte inizia anche a pesare un attimino magari penso il bisogno per forza di segnare per mantenere la classifica lì davanti è bello esserci ma comunque ci sono dei momenti che giustamente pesa anche un pochettino quindi bisogna essere bravi soprattutto ad abituarci a quel tipo di di pressione lì sappiamo che creiamo tanto perché comunque anche una settimana una partita come questa che potrebbe dirsi una partita non perfetta magari dal punto di vista della prestazione è creato comunque penso solo le mie tre nitide per provare a segnare quindi comunque le occasioni ce le hai devi riuscire come dice il mister spesso a concretizzarle questa cosa qua bisogna migliorarla sicuramente per essere competitivi fino alla fine c'è da fare questo step in avanti sul campionato non ha dubbile centra avanti non si fida della breve fuga di Campobasso e San Benedettese oltre che non penso che sarà solo un duello perché in questo momento sì ci vedono ma ce ne sono l'Avezzano c'è l'Aquile ci sono parecchie squadre che sono attrezzate per poi ritornare lì sotto quindi chi meno sbaglierà più avrà possibilità di riuscire ad arrivare in alto in fondo sì ti ribadisco bisogna essere bravi avere la consapevolezza di sapere che le occasioni le hai le creai sempre fino al 90 come abbiamo visto oggi il 94esimo potevi comunque provare a segnare uguale e avere la pazienza di non snaturarci non iniziare a nervosirci per questo fatto qua e ripeto siamo primi o meglio per quanto mi riguarda io sono primo da due settimane quindi devo anche abituarmi a essere il primo il primo era il 12esimo quindi mi aspettavo di vincere la partita o di portare a casa i punti per entrare nei playoff eccetera ora devo sapere che fino alla fine devo giocare per vincere e di conseguenza è buono fino al 94esimo per vincere vedendo comunque la storia di questo campionato il Campobasso ha vinto già delle partite all'ultimo minuto quindi veramente basta farne uno o più degli avversari l'ultimo minuto e i punti si portano a casa bisognerà abituarsi ti ripeto a questo tipo di pressione e contro l'Aquila nella partita di cartello della ventunesima giornata non ci sarà il capitano del Campobasso Leonardo Nonni fermato una giornata dal giudice sportivo assenza pesante da digerire per il Campobasso in vista del big match di domenica l'Aquila parliamo della squalifica di Leonardo Nonni espulso contro l'Atletico Ascoli e appiedato per un turno dal giudice sportivo la doppia munizione incassata proprio sul gong quando ha fatto di tutto per avventarsi su una palla in aria gli è costata cara in difesa tornerà dunque titolare l'affidabile Manuel Gonzales non solo forte in area di rigore Campobassana ma anche in quell'avversaria visto che ha realizzato già tre gol sarà trio inedito con Di Filippo e Bonacchia affiancati quasi sicuramente sugli esterni da Pacillo a destra e Lambiasi a sinistra qualcosina potrebbe cambiare a centro campo dove si fa sentire l'infortunio di Serra Lombari non ha convinto da mezzale il tecnico starebbe pensando di utilizzarlo da seconda punta accanto a Romero o a Di Nardo facendo così posto a un over a centro campo con Maldonado e Grandis che potrebbe essere a Bonchiele valutazione premature ma neanche troppo urge una scossa per il vasto Girardi gli altomolisani hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro l'Avezzano il presidente di Lucente chiede punti e maggior impegno la buona notizia è il completo recupero di Vincenzo Lisi l'esterno offensivo classe 2001 ha smaltito il risentimento muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime gare torna a disposizioni di mister Marmorini che così potrà contare su un elemento di qualità bravo nel saltare l'uomo e nel creare la superiorità numerica Lisi fin qui ha messo a segno un solo gol ma è senza alcun dubbio uno di quei calciatori su cui l'allenatore conta molto per disputare un grande girone di ritorno dovrebbe iniziare dall'inizio in alternativa essere impiegato nella ripresa magari quando i ritmi di gioco saranno più blandi ancora out invece c'è Cuzzi che continua ad avere problemi alla schiena tutti gli altri sono abili e arruolabili nel quartier generale di Fornelli ieri pomeriggio il primo allenamento settimanale l'inizio di una settimana di lavoro che condurrà ad una sfida molto importante per il vasto Girardi quella con l'Avezzano avversario deluso dopo il K.O. rimediato a San Benedetto Gli altomolisani devono fare risultato a tutti i costi il presidente Andrea Di Lucente nelle ultime uscite pubbliche è stato chiaro servono cuore e determinazione per uscire fuori dal momento negativo e guardare al futuro con ottimismo la classifica ancora molto corta e la rimonta possibile ma serve continuità per sfruttare al massimo il fattore casa e cercare di non perdere quando si gioca in trasferta la settimana proseguirà ad alta intensità Marmorini è convinto che giocando con un ritmo alto e con tutti gli effettivi a disposizione l'obiettivo salvezza possa essere alla portata dei suoi ragazzi Vince la San Benedettese che accorcia così le distanze in vetta alla classifica la formazione allenata da Lauro adesso e a soli tre punti dal campo basso capolista il big match del Riviera delle Palme sorride alla San Benedettese che conquista tre punti di platino vincendo per 3 a 1 contro una Venzano che prima illude e poi delude i 200 tifosi biancoverdi a corso in terra marchigiana calcio d'inizio per gli ospiti subito i biancoverdi partono forte e mettono la freccia del sorpasso De Silvestro arriva sino in fondo Bisturi radente uscire se ne si controlla è cinico fredda l'incolpevole Coco facendo impazzire i 200 tifosi marsicani neanche il tempo di esultare che la Venzano sfiora il raddoppio se ne si pesca mascella che incorna ottima la risposta di Coco in corner la Samba non ci sta e inizia a premere sull'acceleratore al 25esimo su palla persa Tomassini incorna e trova uno sfortunato palo interno la Dea bendata però guarda in casa marchigiana perché sul rimpallo arriva come un treno Scimia che da due passi non può proprio sbagliare siglando l'uno a uno cresce la fiducia e l'entusiasmo in casa rivierasca al 39esimo minuto Senigallesi emula la rete avversaria che ha sbloccato la contesa arriva sul fondo e regala a Pagliari il più comodo dei palloni facendo esplodere la curva nord ancora all'undici di mister Lauro vuole azzannare i lupi biancoverdi suo ennesimo pallone recuperato Tomassini colpisce con il collo interno del piede sfiorando il palo alla sinistra di Cultraro nuovamente i marchigiani vogliono il gol della sicurezza Senigallesi pesca al bacio Tomassini ma ancora l'ex Pineto colpisce debolmente con Cultraro che comodo blocca il pallone nel finale ci pensa il neutrato Fabbrini a siglare il Tris che consegna tre punti pesantissimi alla San Benedettese che scalza almeno per il momento i biancoverbi nella rincorsa alla capolista Campobasso e questo era il nostro ultimo servizio grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia arrivederci Grazie a tutti